Avrebbero rubato profumi al centro commerciale di Romagnano Sesia, probabilmente si stavano preparando a colpire anche in quello di Gravelonatoce, i due giorgiani intercettati all'uscita dell'autostrada e denunciati dalla volante della polizia. Entrambi inoltre non potranno più tornare nel VCO. Vioggiavano su una Mercedes classe A con targa francese, hanno 19 e 30 anni. Dagli accertamenti sono emersi numerosi precedenti al loro carico per reati contro il patrimonio. Insospettiti dal loro atteggiamento e dato che non hanno saputo giustificare la loro presenza a Verbagna, i poliziotti hanno perquisito l'auto trovando profumi di marca per un valore di 230 euro ancora confezionati, degli auricolari Bluetooth e 60 euro in contanti. Hanno trovato anche due borse foderate di carta stagnola, sistema utilizzato per eludere i dispositivi antitaccheggio. La polizia ha stabilito che gli oggetti erano stati rubati poco prima in un centro commerciale a Romagna-Nossesia. Nei confronti del più giovane il questore ha emesso il foglio di via dal territorio per tre anni, mentre per l'altro irregolare è scattata l'espulsione. Secondo la polizia i due si stavano dirigendo al centro commerciale di Gravello-Natoce, pronti a commettere nuovi furti. La polferi invece nei giorni scorsi ha eseguito ulteriori controlli nell'ambito dell'operazione Stazioni Sicure. Sono state 970 le persone controllate, 140 bagagli ispezionati in 21 stazioni ferroviarie di Piemonte-Valle d'Aosta nella giornata del 24 agosto, con l'impegno di 79 operatori della polizia ferroviaria. Gli agenti hanno effettuato servizi di vigilanza ammirati al contrasto delle attività illecite e alla prevenzione di possibili azioni improntate all'illegalità, potenziando i dispositivi di controllo nelle stazioni, a bordo treni e lungolinea, con particolare attenzione agli obiettivi sensibili e con voglie internazionali provenienti da Svizzera e Francia. I controlli hanno interessato viaggiatori e bagagli al seguito, mediante l'uso di metal detector, nonché i depositi bagagli, effettuando verifiche sull'esatta procedura di ricezione e custodia.